Ben trovati amici telespettatori nel contesto in cui ci troviamo nel periodo di Natale e in particolare nell'ultima udienza generale prima appunto della festa del Natale ovviamente l'attenzione di tutti e in particolare del Santo Padre di Papa Francesco è andata proprio alla rappresentazione più evidente e più diffusa dell'incarnazione di Cristo. Stiamo parlando del presepe. Il Santo Padre ha voluto utilizzare appunto questo momento di catechesi per evidenziare l'importanza del presepe ma per evidenziare soprattutto quello che dal presepe dobbiamo recepire come messaggio. Ne ha parlato ovviamente il giorno dopo, giovedì mattina, il quotidiano avvenire. Nessun richiamo in prima pagina però un titolo quasi a tutta pagina all'interno. Il titolo che vedete il Papa, due punti, parole virgolettate, il presepe, Vangelo domestico ci ricorda ciò che conta e cioè le persone. E poi nel sommario che riassume quello che il Papa ha detto durante la sua catechesi, il sommario che troviamo sulla sinistra di chi guarda il piccolo schermo, proprio sotto la scritta la catechesi, leggiamo rappresentare e contemplare la natività del Signore e scuola di sobrietà e gioia. Oggi come 800 anni fa a Greccio con San Francesco, lo ha detto ieri, ovviamente stiamo prendendo in esame il quotidiano avvenire di giovedì, lo ha detto ieri il pontefice nella meditazione offerta in aula Paolo VI. Già il sommario ci introduce al tema che stiamo per affrontare e per approfondire. Non vogliamo parlarvi del presepe quest'oggi perché ne abbiamo parlato in maniera diffusa in tanti altri nostri programmi, ma vogliamo accogliere dalle parole di Papa Francesco uno dei messaggi, forse quello più significativo perché di questo messaggio oggi più che ieri c'è particolarmente bisogno che scaturisce dal presepe. Stiamo parlando di una sorta di invito alla sobrietà, così abbiamo letto nel sommario accanto al titolo che è stato pubblicato nella pagina interna di avvenire di giovedì. Questa sobrietà è una parola molto importante che il Papa ha declinato in maniera molto esplicita, come al suo solito ha spiegato con precisione e con grande chiarezza da grande pastore qual è, questo particolare messaggio che scaturisce dal presepe e di cui appunto dobbiamo fare tesoro soprattutto in questa fase in cui ci prepariamo a un Natale che deve essere un po' meno consumistico e un po' più legato alla spiritualità. Ma ascoltiamo le parole che il Papa ha pronunciato su questo argomento mercoledì scorso durante l'udienza generale. Una caratteristica del presepe nasce come scuola di sobrietà e questo ha molto da dire a noi, oggi infatti il rischio di smarrire ciò che conta nella vita è grande e paradossalmente aumenta proprio sotto Natale e si cambia l'ambiente di Natale, no? Immersi in un consumismo che ne corrode il significato, il consumismo del Natale. È vero che se si vuole fare dei regali, questo sta bene, è un modo, ma quella frenesia di andare a fare le spese, dai, 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 questo attira l'attenzione da un'altra parte e non c'è quella sobrietà del Natale. Guardiamo il presepio e lo vedremo, no? quello stupore davanti al presepio. Non c'è spazio interiore per lo stupore, soltanto per organizzare le feste, per fare le feste. Sta bene, ma con quale spirito io lo faccio? Il presepe nasce per riportarci a ciò che conta, a Dio che viene a abitare in mezzo a noi. Per questo è importante guardare il presepio, perché ci aiuta a capire quello che conta. E anche le relazioni sociali di Gesù in quel momento, la famiglia, Giuseppe, Maria, le persone care, i pastori, le persone prima delle cose. Le persone prima delle cose. e tante volte noi mettiamo le cose prima delle persone e questo non funziona. Parole significative, parole che ci fanno riflettere, che ci devono far riflettere, su cui vogliamo riflettere. Ma dobbiamo dirvi che questo intervento del Santo Padre su quel Natale consumistico che ci allontana dal vero significato della festa dell'incarnazione di Gesù, è in realtà stato preceduto da un intervento sulla prima pagina del quotidiano avvenire del 24 novembre scorso, un intervento che è stato pubblicato con la firma di Luigino Bruni, in un contesto particolare. Ci trovavamo in concomitanza con l'inizio dell'avvento, ma anche con il Black Friday, per cui anche quella è stata un'occasione per evidenziare quello che ci induce a fare un nuovo tipo di cultura, sempre più dominante, che si sta in pratica trasformando, ed è la tesi che leggeremo tra poco nell'articolo, in una parte dell'articolo, in alcuni stralci, che si sta trasformando in una vera e propria religione alternativa. Il titolo, Indebitarsi per la festa, e poi nell'occhiello, religione del consumo e nuovi culti. Il Black Friday è diventato, scrive Luigino Bruni, l'inizio dell'anno liturgico della religione capitalistica. Come ogni nuova religione che intende soppiantare una preesistente, anche il capitalismo consumista sostituisce le feste cristiane con le sue nuove feste e sovrappone i suoi tempi liturgici a quelli precedenti. Quando una religione subentra ad un'altra non cambia l'antico ritmo del tempo sacro, più semplicemente lo occupa e ne cambia il senso. E' infatti interessante che il Black Friday segua il giorno del ringraziamento, una delle feste religiose dei primi pellegrini. Nessuna religione diventa cultura senza culto. E il consumismo è diventato religione, perché il nostro mondo è immerso nel culto del consumismo. E come nel Medioevo, il cristianesimo divenne una cultura perché la religione cristiana entrava in ogni operazione e gesto della vita delle persone, attraverso campane, preghiere, calendari, feste, spazi misurati in Avemarie, parole, narrazioni, Oggi l'economia è diventata cultura universale grazie al suo culto e culti quotidiani. Comprare, vendere, pubblicità, misurare, linguaggio, narrative e storytelling delle imprese. Questo leggiamo in prima pagina. E poi ci sono altri due passaggi interessanti del resto dell'articolo pubblicato a pagina 22, sempre dell'edizione del 24 novembre di Avvenire. Il culto universale poteva avvenire solo uscendo dalla fabbrica ed entrando nei consumi, dove la benedizione si ottiene semplicemente consumando, meglio si ha debito. E poi la conclusione è significativa. I poveri saranno sempre più distratti e sempre più poveri. Questa dunque è, secondo Luigi Bruno Bruni, la conseguenza di una cultura del consumismo tuttora imperante, che emerge in maniera particolare in questo periodo di feste, che è anche un periodo di regali, e che si sta trasformando, e questa è la parola, il concetto significativo, si sta trasformando in una vera e propria religione. Una religione alternativa che vuole sovrapporsi, sostituire quelle esistenti. Ma devo dire che questo concetto di un consumismo che si sta trasformando in una religione non è neppure nuovo, non è neppure ascrivibile soltanto a questo articolo appena letto, in alcune parti, pubblicato dal quotidiano Avvenire. Perché c'è già un libro, un libro particolare, di cui vi facciamo vedere la copertina, che riporta un titolo significativo, una sola parola, Temperiamoci, e la copertina poi riporta la figura di un temperino. Ecco, questo libro, scritto da Roberto Lorusso, che è uno studioso di economia cristiana, già in questo libro troviamo questa riflessione, questa considerazione, questa constatazione che è il consumismo, che è la cultura dei consumi, di fatto si sta trasformando o comunque sta avendo i suoi effetti sull'opinione pubblica, sui cittadini, come se fosse una vera e propria religione. Per questa ragione, nella seconda parte del nostro teleobiettivo, ci metteremo in contatto, avremo con noi virtualmente presente proprio l'autore di questo libro, di questo Temperiamoci, il professor Roberto Lorusso, che ci aiuterà a capire non soltanto quello che sta accadendo, come la cultura, trattino, religione dei consumi ci sta condizionando, ma ci auguriamo possa aiutarci anche a spiegarci come possiamo difenderci da questo sistema che di fatto ci sta togliendo la libertà. Pertanto rimanete con noi, subito dopo una pausa breve pubblicitaria parleremo, dialogheremo con il professor Roberto Lorusso. A fra poco. Seconda parte di Teleobiettivo, con il collegamento preannunciato con il professor Roberto Lorusso, autore del libro di cui abbiamo fatto già vedere la copertina e che stiamo rivedendo Temperiamoci, un libro nel quale si evidenzia quella necessità che Papa Francesco ha richiamato nell'ultima udienza generale di una maggiore sobrietà nello stile di vita, soprattutto nei consumi e in particolare il Papa ha fatto riferimento a queste festività natalizie, tempo di regali. Ma c'è un altro concetto importante che abbiamo preannunciato, contenuto in questo libro in cui si denuncia il fatto che la cultura dei consumi, sempre più dilagante, si sta trasformando in una vera e propria religione del consumo. Ci vuol spiegare questo concetto, professore? Sì, grazie e buongiorno a tutti. Il concetto di cultura del consumismo che si trasforma in una vera religione sta nel fatto che ormai siamo diventati proprio come dei credenti rispetto al fatto che possedere le cose significa possedere la felicità, essere felici. In realtà è tutto il contrario, perché le cose che compriamo, molte di queste sono un gran vero superfluo, ci danno una felicità che dura qualche minuto, qualche giorno e quindi in realtà siamo poi nelle condizioni di ricercare ancora una volta un altro dono, un altro regalo, un altro oggetto che ci può rendere felici. E questo purtroppo in realtà è il pericolo, direi anche un po' il vizio in cui noi chiediamo, il vizio di cercare la felicità nelle cose materiali. Invece la vera felicità, la vera gioia, ce la donano le relazioni umane, cosa che il consumismo prova invece a distruggere. Il consumismo vuole che ci frequentiamo poco o al massimo in modo virtuale e poi rincorriamo le cose portandoci nelle nuove chiese. Le nuove chiese sono i grandi ipermercati. Mi viene in mente il titolo di un libro di Eric Fromm, Essere o avere. Come siamo finiti per diventare come di fatto siamo, la maggior parte di noi è schiava dell'avere? Una bella domanda come siamo diventati. In realtà questo è un processo che viene da lontano e viene dalla cultura di imprese che hanno come unico obiettivo quello di fare profitto. Tanto profitto, insaziabilmente profitto. Tra l'altro molte imprese mirano il profitto a breve e quindi per fare molto profitto hanno bisogno di incentivare il consumo. L'unico modo per incentivare il consumo è fare delle pubblicità, diciamolo chiaramente, che ci portano ad autolesionarci, ci fanno sentire incapaci, ci fanno sentire persone non realizzate perché non possediamo questo, non possediamo quest'altro e quindi ci costringono ovviamente per poter poi appagarci, per sentirci approvati dagli altri, inseriti in un contesto sociale, ci portano poi ovviamente a consumare. Ma la cattiva maestra in questo caso è solo la pubblicità perché in effetti la pubblicità sappiamo che fa il suo mestiere cercare di far vendere un determinato prodotto ma non c'è il pericolo che insieme alla pubblicità c'è tutto un sistema di informazione non pubblicitario collaterale alla pubblicità più pervasivo perché più occulto della pubblicità nel far passare un messaggio di bisogni effimeri che vengono percepiti come bisogni nonostante siano effimeri? Sì, assolutamente sì, è vero. C'è tanto altro che ci circonda oltre alla semplice pubblicità che guardiamo ovunque. Dico ovunque perché anche quando frequentiamo i social media, luogo ormai in cui spendiamo diverse ore al giorno in realtà anche in quel luogo mentre vediamo un video di YouTube che ci interessa il video viene interrotto da comunicazioni oppure guardiamo una pagina del giornale sul web e vediamo tante inserzioni e che ovviamente a parte che disturbare la lettura ci portano ad un atteggiamento che non è un atteggiamento riflessivo perché la società moderna non ci consente di fare soste di riflessione corriamo, corriamo, corriamo in tutto nel lavoro, nelle relazioni familiari questa mancanza di incontro con se stesso e con gli altri è qualcosa che ovviamente devasta la nostra cultura di benessere e quindi viene portato ovviamente al possesso. Abbiamo fatto la diagnosi adesso ci serve capire quale terapia possiamo adottare quindi come possiamo difenderci da questa cultura che trasforma gli uomini, i cittadini in consumatori come possiamo in pratica temperarci così utilizzo anche il termine che traggo dal titolo del suo libro Allora, il mio libro, visto che avete appunto ancora mostrato nel suo interno tratta di una virtù ormai dimenticata che è la virtù della temperanza che è la quarta virtù che noi ben conosciamo e che tra l'altro è bene dire subito che queste quattro virtù sono virtù aristoteliche la Chiesa non se le è inventate la Chiesa invece le difende e prova a farcele vivere sostanzialmente quindi la virtù della temperanza è la virtù che limita gli eccessi e quindi ci aiuta ad avere una vita molto più equilibrata oggi ovviamente usiamo sempre più la parola sobrietà anche il Papa usa sobrietà l'abbiamo visto anche mercoledì scorso certo perché la sobrietà è qualcosa che ci suona meglio diciamo è più vicina al nostro modo di essere in questa epoca sostanzialmente la sobrietà però non è solo nelle cose e come dicevo nella risposta di prima la sobrietà sta anche nell'uso del tempo un uso intelligente del tempo perché se noi il tempo lo utilizziamo sempre per stare fuori da noi stessi in realtà ci manca quel momento in cui dobbiamo tornare a capire perché siamo qui ma soprattutto per chi siamo qui cioè la nostra vita è vita vera è vita di gioia, di felicità se è una vita per qualcun altro ribadisco qualcun altro non qualcos'altro quindi come possiamo fare noi per primi provare a dedicare porzioni della nostra giornata a riflettere a meditare chi è cristiano lo può fare con un brano del Vangelo o recandosi davanti al Santissimo e si fa la sua brava mezz'ora di meditazione chi non lo è può anche andare ad osservare un tramonto o un'aurora e incominciare a ringraziare del bene primario che è la creazione già questo cambia il modo di approcciare la nostra vita e anche l'utilizzo del tempo quindi in primo luogo esercitarci con il silenzio anziché il caos la confusione che è sempre attorno a noi quindi traducendo in parole più semplici se noi cominciamo a spendere la nostra vita per l'altro con la A maiuscola e per l'altro con la A minuscola ci sentiamo appagati non abbiamo più bisogno di considerare come bisogni quei bisogni che tali non sono ho capito bene? Perfettissimo ottima conclusione ottima sintesi grazie è tutto così e allora per questo Natale visto che l'altro con la A maiuscola è diventato per noi altro con la A minuscola per indurci a vedere nell'altro con la A minuscola colui che ha creato tutti ci aiuti questa festa queste ricorrenze prossime proprio a fare quel silenzio che il professor Lorusso evocava che ci aiuti a riscoprire la strada per l'autentica felicità e per non essere più schiavi di bisogni indotti perché già siamo appagati dall'unico vero bisogno che è quello di sentirci diciamo appagati da quell'amore per il quale siamo stati creati grazie allora al professor Lorusso per averci aiutato a capire cause e soluzioni a questa schiavitù che poi in realtà è una vera e propria schiavitù del consumo e grazie anche a voi amici telespettatori per averci seguito anche oggi grazie a tutti grazie a tutti